Cade dalla sedia a rotelle e precipita a terra, rotolando da due rampe di scale, morendo dopo ore di agonia. È quanto sarebbe accaduto l'unidiscorso nella casa di riposo Tomitano e Boccassin di Motta di Livenza. A denunciare l'accaduto la famiglia di Amalia De Marchi, 94 anni originaria di Gorgo al Monticano e dal 2005 ospite della struttura mottense. Tutto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio. A causa di, a quanto pare, carenza di personale, la signora è stata lasciata da sola mentre un altro gruppo di anziani veniva trasportato tramite ascensore ai piani bassi e per cause che verranno accertate la sedia a rotelle della signora, che purtroppo non è più autosufficiente vista l'età, è indietreggiata andando a far cadere la signora giù dalle scale per due rampe. La signora ha riportato gravi fratture, un edema cerebrale molto esteso e purtroppo a distanza di poche ore è andata a trovare la morte presso l'ospedale di Uderzo. Sotto accusa, secondo la famiglia, per prima la dirigenza, che avrebbe permesso la presenza di una sola inserviente ai piani, ma anche l'assenza di dispositivi di salvaguardia delle scale. Familiari dell'anziana ancor più indignati su come sia stata gestita finora tutta la vicenda. Da quanto ci è stato riferito dal figlio, le autorità sono state informate di quanto accaduto due giorni dopo. L'ipotesi di accusa nel fascicolo aperto in procura è pesante. Al momento vi è un'indagine per un omicidio colposo e poi il tutto quanto si andrà a verificare nei tempi e nei luoghi preposti. Raggiunto al telefono il presidente della casa di riposo, Michelangelo Villalta, ha rimandato ogni chiarimento a domani, quando sarà conclusa l'indagine interna. Villalta però ha voluto subito chiarire che l'anziana non può essere rotolata per due piani, in quanto la casa di riposo ha solo un piano. In quanto alla presenza del personale in servizio, Villalta ha ribadito che per ogni padiglione l'assistenza era garantita non da uno, ma come prescrive il regolamento, da sei inservienti. Resta comunque il decesso di una 94enne per la quale i familiari pagavano una retta di 1650 euro al mese per avere la garanzia dell'assistenza evidentemente venuta meno, accompagnata dall'inadeguatezza dei dispositivi sulle scale che probabilmente le avrebbero salvato la vita.